L'atelier ha l'obiettivo di indirizzare gli studenti verso una progettazione ecocompatibile. Però attenzione, non ci sono i buoni e i cattivi, gli ecocompatibili e i creatori di mostri. Semmai ci può essere un'architettura un po' più compatibile con l'ambiente e una decisamente meno. Cercheremo di andare verso la prima. Noi insegniamo composizione architettonica e tecnologia, però nel mondo orale non sono due discipline separate, stanno entrambe nel mestiere dell'architetto. Sono degli aspetti che tratteremo da progettisti in modo integrato per portare gli studenti, tutti, ad imparare a fare un progetto di architettura a scala esecutiva. Non ci interessa un oggetto super sostenibile e isolato, una casetta ipertecnologica nel nulla. Un'architettura infatti ha bisogno di essere pensata in base ai bisogni di tanti utenti e in base alle relazioni che determinano i confronti del suo contesto. In questo modo porteremo le problematiche ambientali all'interno di un caso urbano. Cercheremo di insegnare a fare un progetto di housing sperimentale, tenendo insieme esigenze funzionali, vincoli normativi, caratteristiche del contesto ambientale, tecniche innovative e materiali ecocompatibili. Partiremo dalla scala urbana per arrivare all'oggetto di inizio. Grazie. Grazie. Grazie.